Claudia, professoressa di storia e filosofia, molto severa, molto temuta, un tantino odiata. La professoressa, sì, molto esigente, ma anche nella vita, è esigente, è a fila di un generale, per cui si capisce che a quest'attitudine è un po' a rigore. Nel corso della serie succedono cose che riguardano la vita privata, che scioglieranno un po' questo cuore gelido. E comunque è anche un personaggio che nasce in un mistero, che scopriremo via via nelle puntate, dove però questo cuore così gelido ma in realtà evidentemente non è. Incubo, incubo totale, grande paura, strizia, proprio la performance, l'ho sempre sofferta, è curioso che abbia fatto questa scelta lavorativa perché la soffro molto. Però, sì, purtroppo ho sofferto molto, proprio tanto, non ho dormito, quindi ero stanca il giorno dopo, ma poi è andata bene, però l'ho patita un po'. Mi sarebbe piaciuto moltissimo fare l'università perché questa passione per lo studio è rimasta, però il desiderio di indipendenza lì è stato più forte, forse abitando in una provincia mi sono resa conto che tanti di noi hanno questo slancio ad andare fuori. Mi dispiace un po' perché oggi lo faccio per conto mio, quindi studio e mi appassiono molto alle cose che studio, però sarebbe stata una cosa che sicuramente sarei divertita a fare.